Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Continuiamo a parlare di Loki. Oggi è uscita la seconda puntata, il secondo episodio e vorrei parlarne con voi come sempre sia non spoiler per qualche minuto e poi andremo nello spoiler più totale, nello spoiler della seconda puntata. Io do per scontato che la prima l'abbiate vista. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono state a Pompei e scrivere qua sotto un commento di quello che venne apparso dalla seconda puntata di questo video. Vi ricordo sempre che oltre a YouTube ho anche gli altri miei social che appaiono qua e sono sotto in descrizione dove parlo anche di queste cose. Per esempio su Instagram ho esposto i miei dubbi su Loki, sulla prima puntata, e magari poi ne parlo anche in questo video, e sul canale Viola, su Twitch invece gioco ogni mercoledì a Marvel Spider-Man e chiacchierando appunto di quello che corre nel mondo Marvel. Loki episodio 2. Devo dire che adesso si inizia un po' a capire qual è il clima della serie, perché se mentre nell'episodio 1, l'episodio pilota, si poteva supporre che ci fossero degli spiegoni, ci fosse un'introduzione molto lenta perché era il primo episodio e poi si sarebbe passato all'azione, dal secondo episodio mi pare di capire che questo invece sia proprio lo standard di ogni episodio. Questo episodio si prende davvero tanto il suo tempo, ci sono molte scene chiacchierate dove si sta seduti attorno a un tavolo a discutere, a chiacchierare su quello che è la TVA, sui concetti della TVA, sulla sacra linea temporale, eccetera, eccetera. C'è pochissima azione concentrata giusto in una scena, più o meno a metà dell'episodio e nel finale. Però devo dire che se proprio la si misura con il calibro, dall'occhio mi aspettavo un po' più di fantascienza, un po' più di fantasy, che invece ho visto, ho intravisto, nel senso che loro con il pretesto che sono alla TVA, che sono fuori dal tempo, ci fanno vedere molte scene che potrebbero stare tranquillamente su un palco di un teatro. Quindi molto parlata come serie per ora. Speravo che nel secondo episodio si dipanassero un po' di dubbi, invece devo dire che comunque le domande che mi ero fatto sono rimaste. Abbiamo scoperto nel finale del primo episodio che la pericolosa variante che stanno cercando, ed è pericolosa al punto che chiedono a Loki stesso una mano, è un'altra variante di Loki. E questo ci fa capire in due secondi che non è così strano che si crei una diramazione temporale, anche perché se lo fosse non esisterebbe la TVA. Però non riusciamo proprio a capire cosa sia successo, anche perché Loki è riuscito a diventare una variante fondamentalmente con un viaggio nel tempo che sembrava impossibile persino nel Marvel Cinematic Universe fino a qualche tempo fa. Eppure pare che sia pieno di varianti, sia pieno anche di varianti di Loki stesso. Quindi io spero che questa serie ci faccia capire come queste varianti si possano creare, come Loki abbia il potere di diventare lui stesso una variante. Anche perché in Avengers Endgame non è stata una sua scelta, è stata una serie di eventi che lo hanno portato a fuggire dal suo destino. E credo che proprio per questo, cioè proprio perché non riescano a spiegare altrimenti il fatto che esistano così tante varianti, laddove non ci sono possibilità di viaggio nel tempo per ognuno, per tutte le persone nell'universo, ma siano comunque eventi molto rari, stanno spiegando il discorso delle varianti proprio con il discorso del libero arbitrio, ovvero, cosa che aveva suscitato molte domande anche nel primo episodio, questi custodi del tempo, questa sacra linea temporale, sembra quasi che interferisca con il libero arbitrio, cosa che io avevo negato quando mi si faceva la domanda nei vari forum, mi dicevo, no, che c'entra il libero arbitrio? Semplicemente si assicurano che la gente che viaggia nel tempo non crei diramazione. E invece sembra proprio che tutte le varianti, tutte le scelte fatte da ogni singola persona che non sono contemplate per essere una parte della linea temporale principale, vengono effettivamente resettate dai custodi del tempo. E quindi sì, può essere che c'è questo discorso filosofico sul libero arbitrio che sicuramente si svilupperà più avanti. Onestamente è una cosa carina, ma francamente non mi piace tanto, nel senso che avrei preferito che si sviluppasse in un modo un po' più fantascientifico tutto questo concetto della sacra linea temporale. Ma vedremo dove andranno a parare, anche perché, se non lo sapete, ve lo ricordo io, la maggior parte degli americani è di religione protestante, e molte religioni protestanti, perché la religione protestante non è una, ci sono tante ramificazioni, molte delle religioni protestanti fondamentalmente credono in questo, cioè credono che tutto sia predeterminato dal Signore, non credono che esista quasi nemmeno il libero arbitrio per gli esseri umani, cosa che forse noi di cultura italiana facciamo un pochino fatica a comprendere, però può essere che stiano scrivendo questa serie proprio anche alla luce della loro cultura. Adesso vi elencherò una serie di domande che mi sono fatto anche su Instagram, che sono i dubbi che mi ha sollevato la prima puntata e che questa puntata non mi ha risolto, e quindi ve li dico, così mi scrivete nei commenti la vostra opinione. Passate queste domande, partiamo totalmente con lo spoiler selvaggio. Pronti? Allora, nell'episodio 1 Loki dice a Mobius le varianti non possono essere riportate al punto di partenza, non mi potete riportare nel punto in cui ho creato la diramazione e Mobius dice no, perché sarebbe la cosa più semplice del mondo. Riportando Loki nel punto a New York dove era sparito, la diramazione sparirebbe, eppure no, non possono farlo. Loro preferiscono, piuttosto che fare questa cosa, usare questo archibugio, questo aggeggio che resetta la linea temporale, che fondamentalmente fa terra bruciata attorno a sé di tutto quello che è una diramazione. E quindi questo vuole dire fondamentalmente che loro hanno cancellato il momento in cui Loki prende il Tesseract e se ne va via. Questo significa che fondamentalmente hanno cancellato la variante Loki. Quindi Loki, Loki che vediamo in questa serie tv, è una variante fuori dal tempo, ma il Loki del 2012, dopo questo reset, non se n'è mai andato. Quindi in un certo senso non sono loro ad aver creato la variante. Cioè, è questo che dico, cioè sono loro ad aver creato due Loki in questo senso, perché bastava che riportassero i Loki che è scappato lì. Però, vabbè, fa niente. Questione gemme dell'infinito, questione Infinity Stones. Vediamo che alla TVA ci sono un sacco di gemme dell'infinito, al punto che la gente le usa come fermacarte, le tira nei cassetti, non hanno valore. Al di là che alla TVA abbiamo visto che le gemme dell'infinito non funzionano, perché sono fuori dal tempo, quindi non possono interagire con qualunque sia il loro potere, perché sono fuori da dove prendono questo potere. Tra cui anche il Tesseract, vediamo che non funziona. Se avete qualche dubbio, il Tesseract non funziona. Loki è tornato alla sua sala dove stava vedendo la proiezione della sua vita, con il telecomandino, tant'è che se ci fate caso torna nell'esatto punto dove prima c'era la sedia e di nuovo cade indietro, perché quei telecomandini resettano solo le persone col collare e non i mobili, come dice lo stesso Mobius. Dicevo, le gemme dell'infinito non hanno nessun potere, ma ce ne sono un sacco quando noi sappiamo benissimo che in tutto l'universo ci sono solo sei gemme dell'infinito. Questo significa che quella miriade di gemme dell'infinito che vediamo alla TVA sono varianti di queste gemme, cioè esattamente come Loki, sono varianti delle gemme dell'infinito, molto probabilmente raccolte dalle diramazioni che si sono create, diramazioni che poi sono state resettate dalla TVA. Quindi le gemme dell'infinito non sono tantissime, sono sempre quelle sei, sono varianti di gemme dell'infinito che la TVA ha raccolto dalle linee temporali che poi ha resettato. Sempre alla luce di questo mi viene da pensare, Mobius ha detto che l'evento degli Avengers è stato considerato approvato, diciamo, dai custodi del tempo, che io nella prima puntata pensavo che fosse proprio perché avendo riportato tutte le gemme, non avendo creato ramificazioni, allora la TVA chiudeva un occhio su questa cosa. Invece proprio per il discorso della predeterminazione pare proprio che le tre cosmo lucertole volevano che gli Avengers recuperassero il gemme dell'infinito per riportare tutto indietro, molto probabilmente per evitare cose molto peggiori in futuro, ci può stare. Ma quello che mi domando, a questo punto non aveva più senso che qualcuno alla TVA portasse sei di quelle gemme dell'infinito che tengono nei cassetti nel pianeta dove c'era Thanos a riposare, dopo che Thor avesse decapitato Thanos si presentasse un agente della TVA e buttasse le gemme davanti alla casa di Thanos facendo credere agli Avengers che Thanos avesse mentito e che le gemme fossero lì, evitando così un pericolosissimo salto, innanzitutto un salto di cinque anni e evitando anche un pericolosissimo viaggio nel tempo che poteva creare delle varianti, come per l'appunto Loki, quindi non ha senso tutto questo, ma lasciamo perdere, lo so che la serie è stata scritta dopo Avengers Endgame e che stanno cercando un po' di non fare cagate, però cavoli non ha senso sta cosa, ma vediamo, io mi auguro che più avanti la matassa si dipanerà, ma ho seri dubbi, ho seri dubbi che si vada oltre queste spiegazioni, perché comunque i buchi di trama ci sono anche nel Marvel Cinematic Universe, sono più eleganti, ma ci sono, sono più sottili, ma si trovano, e qua forse con uno sguardo attento si iniziano un pochino a vedere. L'ultima domanda che mi ero posto, a quanto pare il viaggio nel tempo al ritorno al futuro non è una cagata, come hanno detto in Avengers Endgame, semplicemente è monitorato dalla TVA, di conseguenza le diramazioni temporali che davvero si creano con i viaggi nel tempo semplicemente sono resettate dalla TVA. Il famoso nastro di Mobius che mostra Iron Man per spiegare il viaggio nel tempo, quello che dice che tu non puoi cambiare il tuo passato perché sarebbe il tuo nuovo presente e non potrebbe essere cambiato dal tuo passato, una roba del genere, quel discorso che fa Hulk. Fondamentalmente è reale per la teoria del nastro di Mobius, ma è reale perché la TVA lo rende reale, perché la TVA evita che ci siano diramazioni fondamentalmente, perché se così non fosse, il viaggio nel tempo al ritorno al futuro sarebbe presente anche nel Marvel Cinematic Universe, stante che questa serie esiste proprio per questo. Questa serie esiste proprio perché annulla le teorie del viaggio nel tempo alla nastro di Mobius che c'è in Avengers Endgame. Tra l'altro ci avete fatto caso che il personaggio di Owen Wilson si chiama Mobius, esattamente come il nastro di Mobius, cioè la teoria del viaggio nel tempo che tutto è circolare. È un personaggio dei fumetti, io non lo sapevo, l'ho saputo da colleghi più stimati di YouTube, è un personaggio dei fumetti e anche nei fumetti ha quell'aspetto, ed è per questo che Owen Wilson ha questo aspetto attempato con i baffi. Bene, ora passiamo allo spoiler più totale della seconda puntata, del secondo episodio. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, poi ci rivediamo qui tra qualche... tre quarti d'ora, non lo so. Dicevo, è una puntata che si prende il suo tempo, una puntata un po' lenta che io avrei preferito... avrei preferito vedere un po' di più, vedere un po' più d'azione e scoprire anche un po' più di cose, anche perché, cavoli, sono solo sei puntate, ma tant'è. Loki riesce a capire finalmente perché la TVA non trova la sua variante, la variante di lui, la variante della variante, perché appunto scopre che se una persona, una variante, questo Loki in questo caso, si nasconde in prossimità di un'apocalisse, in prossimità di un evento che comunque cancellerebbe tutto quello che è successo, quindi anche eventuali variabili creati dalla variante stessa, la TVA non se ne accorgerebbe. Fanno una prova fantastica a Pompei, grazie America, grazie per averci ricordato quello che è successo a Pompei. Fanno questa prova con Pompei, vedendo che se Loki cambia delle cose, non succede, la TVA non viene attivata, di conseguenza, presumono che Loki si nasconda in uno di questi tantissimi eventi catastrofici. Scoprono quale, grazie al pacchetto di caramelle del primo episodio, quindi dicono, ok, queste caramelle sono state commercializzate in questi anni qua, quindi cerchiamo un evento in questi anni e se lo vanno a trovare. Finalmente Loki ha, diciamo, un faccia a faccia con la sua variante che finalmente vediamo nel volto femminile di Lady Loki che, devo dire, sono molto deluso, pensavo fosse mora come Tom Hiddleston. Cazzo, anche Tom Hiddleston è biondo e l'hanno tinto. Non poteva essere mora anche lei, come nei fumetti. Ok, basta. Chiusa la parentesi estetica. Vedremo, vedremo nei prossimi episodi, anche perché abbiamo visto che Loki può tranquillamente cambiare aspetto, abbiamo visto che in questo episodio Loki può anche passare, diciamo, la sua coscienza da una persona all'altra, e utilizzarli come avatar, fondamentalmente. Il nostro caro Loki spiega a questa Lady Loki, che chiamiamo così per non fare troppa confusione, che si è, si sta cercando di guadagnare la fiducia della TVA per incontrare queste tre Cosmo Lucertole, questi Time Keeper, i custodi del tempo e, credo in qualche modo, fregarli o diventare lui stesso un controllore del tempo, non si sa, ma pare che questa Lady Loki, questo nuovo Loki, che non si sa se è una variante del passato, del futuro, non ci è dato ancora saperlo, abbia altri propositi, non gliene freghi niente della TVA, vuole cose ben peggiori, e abbiamo almeno, più o meno capito, o più o meno intuito, quello che avrebbe, che può aver fatto, avendo rubato tutti quei dispositivi che resettano la linea temporale, ha costruito una megabomba, che anche lì io non capivo, ho detto, ma cavoli, c'è questa megabomba piena di questi robini che resettano le linee temporali, che senso ha dal momento che ne basta uno per resettare tutta una linea temporale, ne ha rubati un sacco, quando proprio alla fine, a pochi minuti dalla fine dell'episodio, questi cosini vengono teletrasportati probabilmente ognuno in un evento diverso, non capisco perché, mi viene il dubbio che lei non si sia tanto nascosta nelle apocalissi, quanto che lei abbia piazzato diciamo l'altra parte del portale, non lo so, qualcosa, abbia piazzato qualcosa per fare in modo che l'evento apocalittico come Pompei, come questo uragano dove si trovavano, eccetera, eccetera, sia stato annullato, annullando tutti gli eventi apocalittici, tra cui anche Ragnarok molto probabilmente, ha creato contemporaneamente, per quanto possa essere un concetto strano dire contemporaneamente in questa serie sul viaggio nel tempo, un sacco di diramazioni in modo che la TVA impazzisse. Però non so se l'obiettivo finale è far impazzire la TVA o c'è qualcosa di ancora più grosso come per esempio il fatto che lei volontariamente voglia creare il multiverso o semplicemente voglia creare il caos. Però ecco, sono tutti lazioni che sono tutti dubbi che mi sono venuti nella testa negli ultimi minuti dell'episodio e che per una settimana mi attanaglieranno. Quindi non so se ho indovinato o se è una mia semplice teoria che non vedrà la luce. fatemi sapere voi cosa avete capito da questo episodio qua sotto scrivetemi le vostre teorie e se volete rispondere anche alle mie domande che ho fatto a metà per capire appunto come la vedete voi questa storia della sacra linea temporale. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà ovviamente tra una settimana ma se volete restare sintonizzati sul mio canale usciranno altri video su altri argomenti due o tre volte alla settimana. Arrivederci.